Allora, la parola al consigliere Cavallone. Sanno benissimo qual è l'importanza del loro ruolo. È ovvio che in Commissione, magari per un motivo o per l'altro, è difficile averli tutti. Sicuramente si può magari organizzare dando un po' prima i documenti in modo tale che se si hanno delle specificità da chiedere in Commissione, magari li si mandi un po' prima della Commissione all'assessore competente che vada a chiedere velocemente ai suoi colleghi quali sono sostanzialmente le cose. Anche perché noi abbiamo i documenti prima delle Commissioni e possiamo quindi tranquillamente leggerli. Ovviamente l'altra cosa che voglio dire è che essendo sostenitori del programma del Sindaco, essendo sostenitori anche dell'amministrazione, sia politicamente che col nostro lavoro amministrativo, voteremo a favore di questa delibera.